Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Nel Resist Cancelletto 1, farò la recensione di un film del 1999, American Pie. Jim, Paul, Kevin e Chris sono un gruppo di amici che stanno per diplomarsi al liceo e sono ossessionati dalla loro verginità. Il mio voto a questo film è 10, ho messo questo voto al film perché mi è piaciuto. Il regista è Paul Waits, la regia è buona, bravo regista. Di genere commedia, la durata è 1 ora e 36 minuti. L'incasso al botteghino è di 235 mila dollari. L'attore è Jason Biggs, bravissimo attore. Saluto The Rock Orto, Fabio, ma soprattutto tu che stai guardando questo video. Lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.